oh marì che si è fatto marì mamma mia angelo c'è che una dosce non ne la faccio più io lo medico ma bocca dentro che fa freddo bocca b una cosa una dosce la dosce che medico c'ho lo vicotto da 30 anni fa un goccetto fra passa tutto ma no non è solo la dosce angelo c'ho lo mal di testa me lacrime all'occhio devo aiutare un medico mal di testa ho fatto la grappa artigianale la faccio io un goccetto di grappa cinque minuti passa tutto dammi rete io le so queste cose ma io te ne sai tu io c'ho pure un'altra cosa sotto quella delle donne che tu non la capisci proprio devo aiutare un medico ti dico la bistecca al sangue che ti fa sangue e guarda la c'ho l'oviroscio dopo un'ora ti passa tutto sentiamo fra l'ovicotto e la grappa e l'oviroscio ma tu l'acqua la si beva mai? oddio non sono stato mai così male io da bere l'acqua